Bella ragazzi, benvenuti in questo nuovo video sul canale dello spazio dei Laziali Lazio 4, lo spezia 0, una Lazio perfetta, entra in campo con la giusta mentalità, con il giusto approccio di una grande squadra, come una grande squadra una partita preparata perfettamente da Maurizio Sarri e dal suo staff un olimpico bellissimo, grimito di persone eravamo 41.000 persone tiffusi allo stadio, un bel numero di persone un bel numero di riposi, serviva, tra cui c'era anche sottoscritto allo stadio stavo in Distinti Sud, veramente pieno del settore di Distinti Sud bellissimo anche a Tepe, c'era parecchie persone, la Comunorda ormai come al momento era finita l'unico settore dove a me mancava, c'era molta disponibilità, era la Montemano ma comunque era molto meno costa ragazzi, quindi non è normale è una bellissima partita cominciamo un attimo a raccontargli il pre-partita perché stava lì, ha potuto vedere diciamo e ha potuto omaggiare, applaudire ricordare questo grande uomo Tommaso Maestrelli allenatore della Lazio 73-74 che ha vinto il primo scuoletto della Lazio nel 73 veramente la società ha fatto veramente un bel gesto nel ricordare, nello mangiare e nell'intitolare la Curva Sud come Curva Maestrelli veramente un bel gesto da parte di Rodito, da parte di Tare, di tutta la Lazio veramente un bel bel gesto, anche lì c'era il fiuto e c'era anche il figlio comunque è emozionato ha fatto il gesto del cuore che si è appunto laziale come noi è venuto sotto la Curva Maestrelli ha fatto tutto il giro dell'Olimpico ne ringraziare la Lazio e poi il volo dell'Aquila e la Lazio ha iniziato a giocare abbiamo fatto una bellissima partita perché dopo neanche 40 secondi la Lazio si guadagna un calcio di rigore che però purtroppo a me Ciro sbaglia può capitare perché i rigori vanno calciati, vanno segnati ma si può anche sbagliare purtroppo quindi andiamo ancora di più dopo questo errore Ciro Mobile perché il nostro capitano, il nostro gol, il nostro vanto, il nostro grande capitano il nostro grande bomba, il nostro grande king insieme a Link c'è la Magnoli, Aratu e Cataldi e anche altri giocatori la Lazio dopo il rigore sbagliato non cala, non perde lucidità ma continua a giocare questa è una cosa molto importante ha continuato a giocare senza paura anche grazie all'aiuto del tico perché avere una curva che ti esalta nonostante tu abbia sbagliato il rigore è una spinta veramente molto molto importante la Lazio fa in vantaggio il minuto 14 del primo tempo con Zaccagni che apre l'azione e la guida lui con il gol segnando il gol veramente un'azione bella da parte sua che marca l'avversario con un dribbling si accentra serve Felipe Felipe poi aspetta che qualcuno si possa inserire alle spalle della divisa della Spezia vede Zaccagni Zaccagni si dice perfettamente e Zaccagni segna il gol dell'1-0 Lazio 1 Spezia 0 al minuto 27 del primo tempo segna Alessio Magnoli il raddoppo della Lazio contro lo Spezia un gol bellissimo questo gol è anche uno grazie al fatto che la Spezia non si è mai riuscita a spazzare nella maniera migliore la palla dal lato del rigore la palla è rimasta sempre lì sempre lì diciamo all'unità dell'area dei gol dello Spezia e la Lazio Romagnoli gli agguanta la palla si continua perfettamente in una passione di secondo e la mette lì nell'angolino dove Drongoschi non può fare nulla non può prendere la palla gran gol ma la parte più bella sarà l'emozione di Alessio nell'esultare incredulo sotto la nord con Cataldi e Zaccagni che lo impogarono che lo hanno spinto tutti e due felicissimi dei gol di Romagnoli tutti e tre sono andati sotto la curva nord Romagnoli mentre andava sulla curva nord sotto la curva nord ha baciato tre volte lo stemma veramente un bellissimo momento di felicità di commozione di incredulità per il gol fatto perché il suo primo gol veramente era l'asse sotto la curva nord era un momento che Romagnoli non si aspettava che è un momento in cui Romagnoli ha sempre sognato ecco veramente un sogno che è diventato in realtà veramente molto bene emozionante quel gol di Romagnoli e poi tutta la curva ha omaggiato Alessio con lo speaker appunto che non c'era il gol di Alessio tutta la nord tutto lo stadio urlare il nome di Romagnoli è sicuramente questo sottoscritto è sicuramente un bel un bel momento la Lazio va gli spogliatori tutto a zero il secondo tempo inizia come il primo io c'avevo paura avuto il timore che la Lazio possa entrare non con la giusta mentalità come nel primo tempo ma invece questa volta mi ha sorpreso in positivo perché la Lazio entrare in campo con la stessa mentalità del primo tempo non sottotando l'avversario ma continuando spinge a creare azioni da gol e provando a fare il terzo anche il quarto che poi c'è riuscita con il gol di Minkovic tra doppietta di Minkovic 3 a 0 l'azione che parte da Luis Alberto che serve in profondità Ciremobile movimento che ormai i dimensioni ancora non sono imparati Ciremobile salta da gol che purtroppo era troppo defilato non potuto segnare serve Zaccagni Zaccagni spetta un movimento di qualcuno Minkovic si è inserito bene Zaccagni serve Minkovic e Minkovic appoggia all'angolino dove Dragoschi è spezzato e la Lazio va su 3 a 0 lì la Lazio comincia a palleggiare ma con diciamo la pazienza con la con la giusta mentalità senza iridere all'avversario ma ma continuando a gestire la gara nella maniera più idonea più possibile appunto poi la Lazio dopo fa i cambi escono Lazare Immobile entro Marco Santonio esce Cataldi escono esce Minkovic esce Giusebietto per Matias Vesino tutti i cambi già pronosticati perché la Lazio stanno anche alla panchina lunga quindi è giusto che possa far riposare sul ponte a zero i giocatori più importanti visto che abbiamo fino a novembre un turn de force mostruoso che giocheremo una volta tre volte a settimana è vero la rosa lunga quest'anno è di un'importanza ancora di più rispetto ai altri campionati proprio perché fino a novembre si giocherà ogni tre giorni la Lazio va sul 4-0 al 91 con un gol di Minkovic la doppetta di Minkovic con lo scavino che è a saltare Trangoschi l'azione nasce da Jusai che serve perfettamente il serbo che si inserisce bene e segna il 4-0 la partita finisce lì sul 4-0 per la Lazio una partita perfetta una partita ottima uno stadio meraviglioso pubblico eccezionale una squadra che ha saputo gestire la partita una squadra che sotto la gestione Sarri è arrivata per la prima volta la terza vettoria di fila ma è successo lo scorso anno e questo qua è un punto a favore un punto in più diciamo che è un punto in cui si si vede una crescita mentale e di costanza e di continuità rispetto allo scorso da parte della Lazio e questa è una cosa molto importante ora bisogna vedere un'altra cosa la costanza dopo le partite d'Europa League nel senso che quest'anno la Lazio dopo l'Europa League ha sempre vinto con il Verona con quella altra partita quella che è unissimo dopo la The Black della Demarca era normale che la mettono la Lazio era doverosa era obbligatoria e quindi ha sempre risposto bene ora bisogna vedere come la Lazio gestirà la partita giovedì domani contro Sum Graz lì giocheremo fuori casa oggi ho fatto l'allenamento di rifinitura e quindi domani bisogna vincere per mettere diciamo un punto importante anche nel girone sempre un punto importante perché avremo giochi di con Sum Graz poi andremo a Firenze partita non facile partita molto tosta perché la Firenze sta passando anche un momento molto difficile dal punto di vista dei risultati soprattutto e poi giocheremo di nuovo in casa per la prossima volta con Sum Graz con Sum Graz e poi giocheremo con l'Udinese in casa e poi con l'Atalanta e poi veniamo a correre in Europa League e poi con l'Atalanta e poi c'è il derby quindi sono 3-4 partite fondamentali per la Lazio difficili ma qua si vedrà cosa la Lazio vorrà fare in campionato dove si dovrà posizionare e lo vedremo dopo queste 4 partite quindi mi aspetto tanto dalla Lazio una Lazio che quest'anno invece molto di più rispetto al scorso anno perché si conosce ha fatto un anno con Sarri quindi i meccanismi stanno entrando quasi automatici quindi è una cosa molto importante e quindi aspettiamo e vediamo cosa farà la Lazio a partire già da domani con lo Sum Graz e poi vedremo cosa farà a Firenze poi cosa farà di nuovo con lo Sum Graz in casa e poi con l'Udinese e poi con l'Udinese e poi con l'Atalanta quindi saranno 3 partite 4 partite importanti e detto ciò ci vediamo al prossimo video dopo ci vediamo domani dopo Lazio dopo Sun Graz Lazio sperando una vittoria da parte della nostra squadra e niente ragazzi dai ragazzi forza Lazio sempre per sempre ciao dai Lazio